La satana, una malattia che la Chiesa Cattolica non può tollerare a nessun costo. Noi sappiamo che questo è un grande problema, un problema che Gesù stesso avrebbe denunciato. Ma cosa c'è il nostro responsabile, i cristiani, di combattere questa promiscuità sessuale? È la responsabilità di ognuno di noi di non permetterlo di diffondere il virus dell'AIDS e della nostra società. Non dobbiamo perdonare l'orto per anni. La Chiesa ha 8! La Chiesa ha 8! Non ho la voce a questa conferenza! Nel nostro prezzo di prezzi che morano in il Vatican, ci sono qualcosa di più! Abbratevi le occe per ciò che sta succedendo! Non questo show, prima di che sia troppo tardi! le a tutti qui sono erano positivati! O come di queste in cui sono erano positivati? Io non viungere la scuola! Io non viungere la scuola! La saca è felicità! La città è in un po' di ogni. Io non viungere la scuola! Tu non puoi cercare! Nel mio problema non può essere ero! Nel mio problema non può essere ero! La Chiesa ha ero! La Chiesa ha ero! Allerobor